e io what's good everyone benvenuti nel mio canale questo è mauro che vi parla e oggi andiamo a fare la reaction ad un nuovo artista che si chiama security romano la canzone vizio e voglio ringraziare il ragazzo che me l'ha consigliata su instagram che mi ha detto che spacca che merita anche se non è molto conosciuto quindi a me piace fare queste cose da scoprire nuove artisti se meritano adesso non lo so non ho ancora sentito sarà la prima volta che l'ascolterò con voi però se volete potete seguirmi su instagram di sopra ci sta il mio indirizzo potete trovarmi subito e consigliarmi quello che volete cercherò di fare più reaction possibili interagire un po' con voi scoprire di più sopra il rap italiano e non anche straniero va bene però dai non perdiamo tempo andiamo a sentircela raggio scacchi e le che riesce mi hanno più di qualche vizio siamo sotto senza invito invito mio frate se la lega al dito primo che parla finito il giro giro pure calcolando il rischio tu puoi solo fare il video spirro torni a casa spazio il dito ti guardano tipo che dici quanti siamo dentro sentono filo all'ingresso sei mio fratello tu hai bevuto dalla bottiglia sbagliata al localetto e forse non era quella giusta la strada che hai preso posso stare fermo guardami sopra un mezzo mica su un'auto blu fra forse su un mezzo nero voglio passare sul cazzo ti posso in un aereo questa addosso a me gangar con un'altra dietro sta dicendo se è un passo non vuoi farlo di nuovo se non mi muovo per te neanche per loro mio frà sorriso in faccia se sente l'odore buono però ti guardo assorto fra se sembri uno di loro quant'è felice mio bro se va tutto liscio sale sul podio con due tre bacce di liscia si chiede perché spizza mio frà vuole una risa non è giornata per i tuoi pesa sotto in bella vista so con Giorgio sicurezza nel posto mio frà cambia lavoro da oggi a qualche giorno voglio il meglio per i negri sciuti sotto pure un finto passaporto per chi non può lasciare il posto non c'è palestra che insegna le mosse mi hai imparato in piazza mio frà quando stavo a Coria tu sul divano sta presto al televisore per dieci anni compri a tuo figlio le cose per sentire se strade noi in clan siamo il crack del 2000 anno al suo soldi sparchi fan culo lippano faccio galla al volo come ibra nella rizla ci metto solo l'indica no camels e noi giriamo canne per il mio fratello piccolo sono il fratello grande ho un pacco di cusci nelle palle spacca eh spacca eh ma sono due quindi security aspetta ma sono due gruppo security oppure è featuring quest'altro già scacchi questo non ho capito perché qui ci sta scritto solo security non c'è scritto nulla security già scacchi sarà penso un featuring i documenti sono un po' disattivati al tuo funerale si guardate con le guardie sto con sicurezza fumo un pacco d'erba la vita è una merda spacco il beat di Ganga a di di bella foto gianna e kendall pane e nutella dollari a merenda a scuola vedevo al cesso sull'iPhone non c'entra il pezzo per strada conta il rispetto tre troie nel letto che bello raddoppio soldi faccio un incantesimo trastevere e bebirione tredicesimo una corona in testa Luigi sedicesimo traie sul telefono in gola tipo Benagoggio scacchi sicuri ti sto contando tutti i soldi che prima erano numeri stan come hooligan saldi con la musica fumando verdura per dei tipo lattuga vk puttana tu scappa la clicka che cantano rap poi sbratta nella casa con K c'è K la tua tipa vuole solo Gio scacchi vk puttana tu scappa la clicka che cantano rap poi sbratta nella casa con K c'è K la tua tipa vuole solo Gio scacchi mi hanno più di qualche vicio siamo sotto senza invito invito mio frate se la lega al dito primo che parla finito il giro pure calcolando il rischio tu puoi solo fare il video spiro togna a casa spazio e il tito ti guardano di bocchettis mi piace mi piace questo rap bello cattivo eh andiamo subito a iscriverci dai mettiamo il like sono poco conosciuti ragazzi ditemi voi cosa ne pensate scrivete voi nei commenti cosa ne pensate se ci sono altri artisti che meritano che volete che ci faccia una reazione cioè nel mio piccolo io voglio dare il mio contributo eh assolutamente perché non mi dispiaceva eh il beat era una bomba avevano un bel flow belle barre cattive bel rap cattivo che a me piace e niente ragazzi mi è piaciuto mi è piaciuto assolutamente quindi grazie al ragazzo che me l'ha consigliata spero che vi sia piaciuto anche voi lasciate un like ragazzi per almeno per parco indice anche se non vi è piaciuto dai cioè rap che vanno motivato va motivato il rap forza dai cioè non sono conosciuti ma la canzone è bella mi è piaciuto assolutamente quindi lasciate un like condividetelo con i vostri amici e non dimenticatevi di iscrivervi al mio canale attivare le notifiche ci vediamo alla prossima bella